Nessun dipendente sarà spostato dal comune di Militello Rosmarino, pur con il personale in esubero, mentre comunque un dipendente è andato in pensione ed uno in via di pensionamento, il Ministero dell'Interno ha riconosciuto la legittimità della delibera adottata alla fine dello scorso anno dalla giunta guidata da Salvatore Riotta. Consapevole di speculazioni anche di carattere politico e di accuse lanciate nei confronti dei dipendenti, il Sindaco Riotta ha pensato bene di incontrarli per rassicurarli e per ribadire l'importanza del loro lavoro al servizio dell'utenza. Per me è un dovere, un padre di famiglia deve garantire tutti, io come primo cittadino sono stato sempre, nella mia vita mi sono sempre assunto alla responsabilità del mio operato e delle mie azioni. Io da quando noi abbiamo approvato questa delibera, da quando 12 di ottobre 2021 e nei giorni seguenti, quando è stato montato questo polverone politico praticamente, per fare solo speculazione, speculazione di basso fondo, credetemi, io la notte non dormivo perché essendo un padre di famiglia, essendo io un dipendente della pubblica amministrazione, mi sentivo in colpa, però noi non avevamo fatto niente di cui potevamo essere additati come colpevoli di un problema non causato da noi, il dissesto 3 milioni di euro non li ha causati l'amministrazione Riotta, anzi l'amministrazione Riotta non ha fatto altro che dare lustro a tutti gli impiegati del Comune di Militello Rosbarino, facendo dare, diciamo, facendo rispettare il ruolo di cui lavorano, che lavorano dignitosamente, si guadagnano dignitosamente. Spesso e volentieri, in mio malgrado, devo dire che qua c'era gente che veniva a bistrattare a volte qualche impiegato comunale, da quando ci sono io questo non succede più, non succede più perché ognuno di noi lavora in maniera dignitosa, si guadagna dignitosamente un pezzo di pane e deve essere rispettato. L'utenza deve essere servita e riverita, ma nello stesso tempo la stessa utenza deve avere rispetto per chi c'è di fronte e lavora.